E certo ragazzi, benvenuti in questo video del canale. Oggi c'è la nuova stagione, la stagione 1 del terzo capitolo, del capitolo 3. Comunque, io dico di iscrivervi al canale, di un bel like e di un bel like. Comunque, iniziamo. Qua è il trailer. Benvenuti al capitolo 3, con nuovi luoghi da esplorare e nuovissimi modi di vivere Fortnite, come mai prima d'ora. Ottieni pie e pass battaglia anche fuori dalla battaglia reale. Gioca a modo tuo per salire di livello. Scusa non le due skin. Scusa non le due skin. Scusa non le due spin. Spiderman. Ci sono anche nuove funzionalità. Puoi spostarti velocemente e schivare il fuoco nemico scivolando e oscillando. Puoi allestire accampamenti dove tu e la tua squadra potrete curarmi. C'è pure Massimo del Vorto, non so se è uno stile o fare un'altra volta la collaborazione. Però se è uno stile me lo dovrebbe vingare a me, in questo nuovo personaggio. La corona della vittoria. Continua a vincere e avrai la corona. Oltre a queste funzionalità, risulta tutta nuova. Scopri il santuario, la casa nascosta dei sette. Esplora insieme a Spiderman il Daily Bugle. E con esso anche tanti altri luoghi. E con le condizioni meteo dell'isola, tutto può succedere. In aggiunta alle novità del gioco, scopri il pass battaglia capitolo 3 stagione 1 con Spiderman. Spast battaglia Spiderman e fondazione. Questo qua è il nuovo pass battaglia. Pagina 1 abbiamo Shanta. Bella come skin. Non è troppo bella però. Ronin. Questo qua è scatenato in modo maschile. Perché era un concept. Comunque grande, bella grande la pagina 1 sinceramente. So qua, è tutto in inglese. Abbiamo lo spray, il detta plano che non piace. Mi sembra quello là della palla 8. Questo qua è piccoli bellissimi. Dobbiamo ancora capire quanto finisce la nuova season. Comunque pagina 2. Abbiamo i 100 V-Bucks che non mancano, la nuova emoto. Non è tanta bella però. Non è nemmeno integrata. Vedo che vedo il nuovo detta plano che è bruttissimo. Però non mi sono tante cose che mi piacciono. Questo qua, Ronin in modo azzurro penso. I Bucks, lo spray, Lotus Touch, che è una copertura che già mi piace. Dimmi qua sotto nei commenti le vostre prime impressioni, che a me personalmente non mi hanno ancora stupito. Pagina 3, abbiamo già una skin concept. Nella nuova emoto. Non so se è integrata o qualcosa del genere. Comunque, abbiamo il mantello. Questo qua è la pagina 4, non la pagina 3 volevo dire. Comunque, questo qua è la nuova, il nuovo lama, John Lama. Non è troppo bella però. Comunque, il po' sbattare ancora a me non mi ha stupito. Questo sì che mi ha stupito. Wow, come l'ho detto. Bellissimo. Vedo l'ora che lo sbloccherò. Questo qua è la forza. La lume emoto. Se non vuoi farete però il play school, potresti usare questo. Tipo che ti danno tipo le schede. Bello, bello. Mi piace. Ok, per ora la pagina 4 vi sta salvando il pass battaglia. Comunque, questo stile è più bello, più carino, più simpatico. Non lo so. Più non lo so però. I centri box che non mancano. Il nuovo piccone, che è bellissimo. Heaven, che è bello come skin. No, così no, faccio di brutto. Non mi piace. I centri box, la nuova copertura. Che personalmente è carino. Sì, che carino. Comunque, queste sono le nuove Armin. E' giunto pure le nuove Armin. Dopo, se riesco, vi faccio vedere un pochettino di novità. Tipo il pack, 4 euro, eccetera. Definiamo il pass. Poi, pagina 6. Abbiamo Haven, in un altro modo. Goombo. Non è troppo bello. Se mi sapevo di questo skin, stavo nei concept. Tipo, non so se erano nei concept che ho portato su YouTube, tre mesi fa, due mesi fa, penso. Quando ho portato i video dei concept. Comunque, se può un altro. Bello, bello. La nuova Emote. Il ballo. Ah, carino, bello. E qua mi piace questo. E' bello come motto. Questo qua è il tavolano che non manca. Questo qua è il nuovo stile. E' lo zaino. Adesso siamo nella pagina 8. Bella. Il skin secondo me sarà una skin try harder. Sì, in questa stagione però. Siamo come Sunny, eccetera. Ah, Ronin con il cappuccio. E' bello. Non, così no. E' brutto. Però adesso non si può giocare. Non si può giocare. Ok, la pagina dove abbiamo. Spider-Man. Bello. Però, già lo so che non lo userò mai. Va bene. Quello là è poco ma sicuro. Bello questo è molto. Il motivo è che sono belle però. Oh, bello. Questo qua è tipo come vorrei fare tipo roleplay. Vittoria Alba. Potremmo spettere questo. Bello. Harlow. Che bello. La skin non è poco livello 100 però. Questo qua è lo zaino. Questo qua è Spider-Man. Bello, bello. Ah, comunque il post-match è sempre con le stelline. Mi ho messo qua. Il giorno così. Bello, bello. Poi, no. Questa skin è la più bella. Tra tutto. Però, già lo so che non lo userò. Questo è poco ma sicuro. Comunque. La seconda pagina. Haven. Ma vieni, state accorti che ci sono più skin. In questo post-battaglio. Non lo so. Io vedo più skin. Vedo. Comunque bello questo. Boom bar. Sure. Bello. Che abbiamo lei che è tutta così. È bello. Non è bella. E qua abbiamo la pagina 5 e 6. Che possiamo vedere. Comunque la skin segreta. È fondazione. Tra 60 giorni si sblocca. Questa è la mappa bella. Quella mappa tutta nuova. Comunque. Comunque questo qua è la nuova mappa. Poi questo qua è il tetaprano della vittoria. Che non è carino. È bello. Non è bello proprio. Questo qua è il pacchetto. Che è bello. Con i 600 di box che non mancano. Il piccone. La skin. Eccetera. Comunque. Questo qua era la reazione al pass-battaglia. Comunque. Noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video. Penso che ci vediamo domani oppure oggi. Ciao.